Ciao a tutti! Io sono Eleonora e sono Emma e questo è il nostro canale I colori di Emma! Ci è appena arrivato il nostro ordine da creazioni by Anna. Guardate che cosa strepitosa! È un appendino per tutte le nostre passatine. Ce ne sono di tutti i tipi. C'è la passata unicorno, c'è la molletta di aria e ora ve le facciamo vedere una a uno. Passatine glitterate sono tutte fatte a mano in gomma Eva. E c'è anche questo adorabile cestino unicorno dove dentro abbiamo già posizionato tutte le mollettine e i fiocchettini che abbiamo ordinato. Ma non finisce qua! Ci avete sorpreso perché stavamo appena spacchettando il nuovo sacco. Ma è la passata di me contro te! Ci sono Kira e Ray! È fatta a mano! Adesso guardiamo cosa c'è a Biala. Cosa c'è in questa busta? Wow! È una Minnie! Provala Emma! Guardiamo con questa! Perfetta direi! La vuoi tenere? Allora, le voglio provare una anch'io. Mi tolgo questa e lo vediamo un po'. Meravigliosa! Wow! La mettiamo qua. È Biancaneve! Wow, che carino! Io provo questa senza dubbio. Ui, è stata dorata! Facciamola vedere ai nostri amici. È bellissima! È gialla fluo! Wow! Questa è ancora più bella! Ha due colori, rosso e bianco. E' illiteratissimo! Wow! È una passata là! No, faccio il cambio, eh. Faccio il cambio. No, questa... Prima hai preso questa. Va bene. È anche la mia volta. Guarda che c'è altre cose, eh! Vediamola! Vediamola più da vicino! Wow! E poi, lascerò... Guardate là! Elsa di Frozen! E la mettiamo appunto... Ci sono un'ultima cosa, eh! Sì, vediamo, vediamo. Oh, sono curiosa, sono curiosa! Ma sono dei bracciali! Tre bracciali! Ne vogliamo fare così? Sono dei bracciali! Guardate! Sono carinissimi! Lo proviamo, Emma? Sì! Vieni che te ne provo uno! Eccola qua! Il bracciale unicorno! Voglio provare un'altra passata! Ma guardate, questo vestito! Questo vestito è veramente un pezzo unico! La signora Anna ce l'ha fatto proprio guardando i colori della nostra cameretta! Esatto! La cameretta è lilla e quindi il nostro vestito è lilla! Sì! È un unico! Eccola! Come mi sta? Benissima! Ma, Emma, prova la passata unicorno che è senza dubbio la mia preferita! Anche la mia! Come sono? Emma, sei bellissima! Wow, sono davvero bellissima! Visto che oggi dobbiamo provare tutte queste passatine, tutti questi fiocchetti, tutte queste mollettine, ne approfittiamo per insegnarvi... Alcune accolciature! Sì, esatto! La più famosa è la treccia! Ci sono tanti tipi di treccia! Ora ve ne faremo vedere alcuni! E poi anche l'acconciatura LOL! Che è quella fatta con i pomponi! Sei pronta, Emma? Sì! Che ti scapello un po'? No! Sì, 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 ti scapello! La prima cosa che andiamo a fare è la treccia classica! Ovviamente non è facile farla da soli, però potete farla ad una sorella se ce l'avete, o esercitarvi sulla vostra mamma, oppure chiedere alla mamma di farla su di voi! Vado! Si chiama treccia! Quindi vuol dire che i capelli vanno divisi tre parti! Uno, due e tre! Prendiamo il lato esterno e lo mettiamo dentro! Dall'altra parte prendiamo il lato esterno e lo mettiamo dentro! Dobbiamo tirare un pochino! E così via! Prendo l'esterno e lo metto dentro! Prendo l'esterno e lo metto dentro! La vado a fermare con uno di questi fantastici elastici che abbiamo ordinato da Creazioni by Anna! Ha seguito proprio i colori e lo stile che avevamo chiesto! Ecco fatto! Non è magnifica? Adesso vado di nuovo a pettinare i capelli di Anna! Perché vado a fare la treccia numero due, treccia all'isca di pesce! È facile, sembra difficile e complicata quando la vediamo finita, ma in realtà è semplice! Basta dividere i capelli in due! Olè! Uno e due! Vado a prendere una ciocchettina dall'esterno e la metto dentro, al centro! Parto da destra, vado e metto dentro! Sinistra, prendo e metto dentro! Le ciocche che abbiamo preso le fermiamo insieme alle due metà! Mi aiuto con il pollice a sorreggere la ciocca appena presa! Vado e metto dentro! Quindi i capelli sono sempre divisi in due parti! Vado e metto dentro! Siamo quasi alla fine! Andiamo a scegliere un elastico e l'andiamo a fermare! Emma! Questo qua è di Ariel? Sì, va benissimo! È bello! Andiamo a fermare la nostra treccia all'isca di pesce! Guardate, è bellissimo! Vedete come l'intreccio è fitto fitto! Poi, se volete, potete andare un pochino ad allargarla per rendere l'effetto! Ora andiamo a fare l'acconciatura tanto attesa! I pom pom da LOL! Iniziamo dividendo i capelli a metà! Dopo aver diviso i capelli in due, li andiamo a fermare con un elastico! Questa volta non utilizzo gli elastici di Anna, perché vanno nascosti e quindi servono degli elastici più semplici! Vado a fare due codine belle strette! Ecco qua! Abbiamo fatto le nostre codine! Noi abbiamo trovato questi elastici per capelli imbottiti che aiutano ad avere un pompon ancora più grande! si infilano nelle code si infilano nelle code e poi si procede aiutandoci con delle forcine si, questa è dura l'altro? ecco fatto! è pronta la nostra acconciatura da LOL e visto che abbiamo tutti queste fiocchette e queste passatine io le andrei proprio a decorare con una passatina, vediamo un po' wow! sei veramente meravigliosa! se anche voi volete dare un'occhiata alle creazioni by hand vi lasciamo il link in descrizione se questo video vi è piaciuto mettete un like! iscrivetevi a Pionale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanella per essere sempre riusciti al prossimo video ciao!